Partita, questa prima finale di Unione Famine, esce di grande inizia, ci manda i genitori a correre. Il prossimo passaggio sentiremo suona la campana ad annunciare la prima doppia eliminazione. Suona la campana, attenzione a lele, doppia eliminazione sul prossimo passaggio. 511.144. D'ora in poi saranno eliminazione singole, ma adesso la campana... E' il momento della meta del numero 4, c'è l'interno del 1. E' il momento della meta del numero 4, c'è l'interno del 1. E' il momento della meta del 4, c'è l'interno del 1. Non lo so come sta. Suona nuovamente la campana, ammonita l'atleta numero 2. 217 Attenzione a te, terminazione nel corso 283 Attenzione a te, terminazione nel corso 383 Attenzione a te, terminazione nel corso Seconda ammunizione e predichie 484, terminazione nel corso Attenzione a te, terminazione nel corso Attenzione a te, terminazione nel corso 445, terminazione nel corso Attenzione a te, terminazione nel corso 319 Attenzione a te, terminazione Attenzione a te, terminazione nel corso Attenzione a te, terminazione nel corso Comitari 499 fermarsi, eliminata sull'ultimo passaggio. 599 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 fermarsi, eliminata sull'ultimo passaggio. 499 fermarsi, eliminata sull'ultimo passaggio. 599 fermarsi, eliminata sull'ultimo passaggio. 599 fermarsi, eliminata sull'ultimo passaggio. 499 fermarsi, eliminata sull'ultimo passaggio. 599 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 fermarsi, eliminata sull'ultimo passaggio. Viene ammonita l'atleta a 493 464 fermati Siamo alla campagna di meno 16 giri al termine 405 eliminata Siamo alla campagna di meno 14 Iniziano a fare sentire i chilometri per i corsi Siamo all'eliminazione di meno 13 Quattrocento e 903 E sarà un quadro volante sul prossimo passaggio Siamo all'eliminazione di meno 14 Meno 11 di corso 5 per cento Deve per amarsi Meno 10 giri al termine Siamo all'eliminazione di meno 9 Siamo all'eliminazione di meno 14 Il minore del numero 14 Siamo all'eliminazione di meno 14 Siamo all'eliminazione di meno 14 salta la prossima eliminazione per il ritiro di un atleta quindi non ci sarà eliminazione di passaggio campana di Romino Cecilia Termine junior maschi all'appello junior maschi all'appello eliminazione al passaggio numero 5 a meno 3, meno 2, meno 1 ci sarà eliminazione ad ogni giro campana di meno 4 e qui alla terza della gara eliminazione a tutti i giri il ritiro di un atleta numero 243 eliminazione 318 eliminazione del passaggio e la settimana 6 dovessi fermare ci sarà ancora eliminazione sul prossimo passaggio campana di ultimo giro 233 entra in diffida siamo alla campana nel ultimo giro e l'inimitazione del passaggio numero 352 siamo all'ultimo giro e attendiamo il passaggio sicuramente e l'inimitazione del passaggio e l'inimitazione del passaggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti